Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Piegamenti laterali del busto. Via! Prossimo esercizio. Twist in piedi. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Mezzo squat con pugno laterale. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Rotazione completa del busto più sumo squat. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. 3, 2, 2, 1, via! Esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Affondo posteriore incrociato più slanci laterali. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali in piedi. 3, 2, 1, via! 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali pulsati. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Via! Prossimo esercizio. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Lanci laterali i carponi. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 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 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali più slanci frontali. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 7, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Lanci laterali pulsati con gamba a 90 gradi. 5, 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, cambialato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Incrocio gambe supini. 3, 2, 1, via! 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop. 5, 4, 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Rotazione delle gambe supini. Via! Grazie a tutti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Caduta controllata delle gambe. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, via! 6, 4, 3, 2, via! 5, 4, 3, 2, via! 5, 4, 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Roll up. 6, 4, 3, 2, 1, via! 6, 4, 3, 2, via! 6, 4, 3, via! 7, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Rolling like a bull. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank bassa. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank laterale più calcio. 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via! 5, 5, 1, via! 5, 4, 1, via! 5, 5, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching addominale. Via! 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, stop!